Siamo tornati in diretta con 7 in punto, raccolgo il testimone dalla collega, ci occupiamo di politica perché abbiamo qui con noi questa mattina il neo segretario regionale del partito democratico, segretario del Veneto appena eletto, domenica sera qui con me Alessandro Bisatto. Buongiorno e benvenuto, lei è anche sindaco di Noventa Padovana. Un risultato scontato visto che si è riconfermato Matteo Renzi segretario nazionale oppure no? Perché poi abbiamo visto che proprio in Veneto il suo avversario, anche se lei l'ha doppiato praticamente in quanto a preferenza, però ha ottenuto più del candidato nazionale che era Andrea Orlando. Diciamo che era, come dire, c'era un filone di riferimento ma non era per nulla scontato perché qui si fronteggiavano, anche se il termine forse improprio, si contendevano il ruolo due persone, tra l'altro relativamente nuove allo scenario regionale, e quindi dovevano essere conosciute dagli iscritti, agli elettori, agli simpatizzanti, cosa che abbiamo cercato di fare girando veramente in lungo e in largo negli ultimi due mesi il Veneto. A proposito di girare in lungo e in largo, lei ha esordito subito dopo, pochi minuti dopo l'elezione, dicendo che consumerà le gomme della sua vettura proprio per fare il giro di questa regione. Che cosa intendeva? Io credo profondamente al fatto che dobbiamo sentirci parte di un'unica comunità politica e che questo nasca profondamente da avere un legame col territorio. Quindi quella che io vado dicendo, la creazione di una cinghia di trasmissione, termine magari anche desueto, ma che sta a significare un rapporto con gli iscritti nei circoli e soprattutto con gli eletti nei territori. Gli eletti di minoranza che portano la croce dal lunedì alla domenica per poter dire qualcosa in consiglio comunale che faccia riferimento ai propri riferimenti ideali, ma che sia anche incardinato in un sistema partito che riesce a parlare con gli eletti in regione, in Parlamento, quindi con un'andata e ritorno anche nella politica che si fanno sul territorio. Io credo profondamente in questo, se noi ricreiamo questi nodi, questo tenere assieme questa rete di reti, riusciremo a rendere significativo e importante il nostro ruolo in Veneto. Lei ha sottolineato l'importanza di una comunità all'interno del Partito Democratico del Veneto in questo momento inclusiva. Cosa cambierà nel PD del Veneto che più che aver subito degli strappi, delle lacerazioni così nette come il PD nazionale, mi è sembrato avere avuto dei periodi di ombra, quasi non sembrava che ci fosse una vita all'interno del PD, quasi che dopo la sconfitta dei regionali, era un'entità un po' caduta in ombra più che con delle tensioni interne. Qual era la situazione, che cosa è successo? Il partito ha vissuto due anni di commissariamento, nel frattempo ha vissuto anche le tensioni che arrivavano dalle logiche e dalle dinamiche nazionali, anche in Veneto c'è stata la sessione poco tempo fa che ha portato alcuni esponenti anche molto significativi a ricondursi storici, anche qui nel Padovano tra l'altro, ma al di là di quello io sono di due idee ferme, che un congresso serva a caratterizzare la linea e che la maggioranza a quel punto deve nel breve e nel medio poter indicare le linee di sviluppo o comunque di traiettoria del partito stesso e quindi in una minoranza non governi sulla maggioranza. Però altrettanto che non debba prospettarsi l'ipotesi che chi ha vinto debba schiacciare gli altri. Noi dobbiamo avere la forza di guardare oltre il nostro recinto, è lì che stanno eventualmente quelli, tra virgolette, i nostri avversari. L'interno sono più le cose che ci devono tenere assieme rispetto a quelle che ci dividono. Lei ha anche dichiarato che inizia da adesso la corsa a Palazzo Baldi, mancano parecchi anni, salvo qualche sorpresa a livello nazionale. E come procedere in questa corsa andando a recuperare i fuoriusciti, ne parlavamo prima, di personalità anche di spicco che hanno avuto anche un ruolo all'interno, hanno un ruolo ancora all'interno della regione Veneto. Quindi c'è un recupero di queste forze perché altrimenti già è difficile conquistare la regione. Comunque io non ne faccio una questione nominalistica di eletti, ne faccio una questione più strutturata, come dire, di saper parlare un Veneto profondo. Allora anche in questo senso non è la proposta mia personale di candidatura, attenzione, precisiamolo bene, è costruire un partito, una comunità politica che caratterizzandosi per alcuni temi specifici, che possano essere chiaramente riconosciuti dai Veneti, ne butto due sul tavolo ma ce ne sarebbero molti altri, la prevenzione del disestro idrogeologico, è un qualcosa che è sentito nei nostri territori, dai nostri eletti, dalla nostra gente? Secondo me sì. Sulla valorizzazione turistico, ambientale, architettonica, facendo sistema e non pensando solo alle grandi città, ma pensando anche ai centri che di minore hanno poco, ma che portano turisti, che possano pensare a un turismo lento, che rimane qui, che fa economia. È un altro tema nostro che può caratterizzare la nostra proposta di sviluppo Veneto del futuro? Sì, io ritengo di sì. Quindi caratterizziamoci per dei temi, diventiamo assolutamente intransigenti rispetto ad altre politiche che stanno profilando delle crepe nella politica regionale. Quindi opposizione ferrea su alcuni punti, determinatezza assoluta su temi nostri, che sia questa far crescere le migliori forze del Veneto per non arrivare impreparati al momento del voto. Il 22 ottobre c'è il referendum per l'autonomia del Veneto e c'è una volontà di votare sì, ma un sì che deve essere diverso da quello dei promotori del referendum. Ci spiega? Più ancora che decidere di votare sì, questa è la mia linea di pensiero che poi preciserò. Io ho avuto modo di dire in sede congressuale, prima delle primarie, lo ribadisco adesso, che nel giro di 30-45 giorni io proporrò come partito una conferenza programmatica sul tema a livello regionale, in modo che tutte le persone di riferimento del nostro partito abbiano parola, possano dire come la pensano. Alla sintesi, poi alla fine, ne uscirà una voce unica del partito PD Veneto. E non quindi un florilegio di posizioni che non hanno nulla a che spartire con la composizione unitaria, ma che diventano il rimando personale di una posizione che è autonoma. Tornando all'aspetto specifico, siccome alla fine un referendum quando viene propugnato, proposto, bisogna decidere se votare sì o se votare no, oppure astenersi. Io sono per una terza via del sì, se può essere detta in questa maniera. No, si sintetizza sempre in un sì. Si sintetizza in un sì, ma c'è sì e c'è sì. Allora, c'è un sì politico per aver forza dei numeri e magari chiedere qualcos'altro, che è quanto propone, innuce il nostro governatore. C'è invece un sì che entra... Secondo lei che cosa vorrebbe correre il sì? Lui vuole... Al di là di poter gestire meglio le risorse e avere delle competenze per gestire meglio la regione, insomma. Se fosse quello sarebbe autonomia amministrativa. Lui invece sta dicendo, vuole riportare dentro dalla finestra, quando è uscita dalla porta, l'indipendenza e la secessione, sotto altri argomenti. Allora questo a me, alla mia comunità politica, io penso anche alla stragrande maggioranza dei veneti, non interessa la storia e gli ha sconfitti. Infatti è passato solo un quesito, se non sbaglio, no? È passato un quesito, ma lui dice, il governatore, quale, come diri io, che ha anche la mia stima, visto che ha un consenso molto dichiarato, importante, però entriamo nello specifico dei temi. Lui dice apertamente che questo è solo un effetto rimbalzo per ottenere poi la specialità, così come avviene in altre regioni autonome. Non è il dato di fatto, perché il referendum è incardinato su un articolo della Costituzione che è il 116,3. Lì c'è già scritto cosa si può fare. Mi scuso, si può andare a un negoziato con la regione. Lanciamo la pubblicità, torniamo subito con... Fatalità, guardi, le manca la voce proprio nel momento in cui devo dare la pubblicità. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio con noi questa mattina, il neosegretario del Partito Democratico del Veneto, Alessandro Bisatto. Prima di andare in pubblicità, giuro che non è stato il mio tentativo di soffocarlo, adesso si è ripreso un colpo di tosse, si parlava appunto della diversa interpretazione che voi date a questo referendum consultivo, un referendum dove lei vuole costruire una visione comune di maggiore autonomia, di maggior federalismo della nostra regione, però in un'ottica di salvaguardia dell'articolo 116 della Costituzione che lei dice già aveva tutti gli elementi per poter avviare una trattativa con il governo per ottenere più autonomia? Sì, sì. L'articolo 116,3 statuisce che si possa arrivare a un negoziato tra Stato e Regioni, quindi non la Regione del Veneto, la Regione Lombardia, qualsiasi Regione d'Italia, se ha dei prerequisiti economico-finanziari può arrivare a negoziare con lo Stato un'eventuale gestione diretta di alcune materie, ottenendone quindi anche la compartecipazione economica che lo Stato mette per gestire quelle materie. Quella è una sussidiarietà orizzontale, verticale, tutt'altro è una cosa che sottotraccia facendo un referendum. Questo lo dice lei perché poi devo dire che è sempre stato riferito da parte di chi ha detto il referendum che il tentativo di fare delle trattative con Roma per evitare il referendum è sempre stato un tentativo rimandato, rimpallato, tant'è vero che il referendum è stato avviato dalla Corte Costituzionale e anche, così insomma ci hanno riferito, la necessità di doverlo pagare soltanto la Regione Veneto, questo per non averlo fuso con l'Election Day eccetera eccetera. Qual è la sua posizione insomma in merito? Sulla fusione? Sì esatto. La fusione si parlava, è come se stessimo a parlare di carne e pesce, cioè due argomenti che non ci azzecavano più di tanto, quindi io posso anche concordare sul fatto che sia stata individuata una data solo per questo, si poteva anche non fare, cioè nel senso, però è anche vero che la Corte Costituzionale stabiliva che è arrivata a dare un'espressione chiara sulla possibilità di fare un referendum anteriore ed esterno al negoziato stesso. Negoziato che lei dice si poteva fare a prescindere dal referendum? Assolutamente sì, dal primo gennaio 2014. Quindi secondo lei non c'è stato un elemento ostativo da parte del governo? No, non ho partecipato al tavolo, io però pubblicamente e politicamente dico che se c'era questa volontà di arrivare già al negoziato si sarebbe potuto partire prima. Il referendum in moltissime occasioni, questo indubitabile, è servito anche per mettere a tacere qualche crepetta che si stava aprendo in qualche politica regionale, perché se la Pedemontana Veneta comincia a fare acqua nella gestione, nella chiusura del closing, una notiziona che parla quando andiamo a stabilire quando c'è referendum torna strategico anche da un punto di vista comunicativo. Tornando invece a quelli che possono essere gli obiettivi da un punto di vista di una maggiore autonomia e quindi di una gestione delle proprie risorse secondo merito, che è un elemento su cui trasversalmente credo che un po' tutti i veneti siano d'accordo, quali sono i punti che il partito democratico, il neopartito democratico del Veneto vorrebbe portare a casa in un dialogo qualunque esso sia con il governo, che allo stato attuale è espressione diretta. Sì, sì, questo è vero. I consiglieri regionali del Veneto e del Partito Democratico avevano avanzato anche una proposta per cercare anche di capire con il governatore quali potessero essere le materie da trattare. Io penso che da questa conferenza programmatica che andrò a proporre usciranno i temi e di lì avremo una linea che è comune, che è unica, soprattutto unica, questo è importante, che sia unica in modo che si senta un'unica voce del nostro partito sul tema. Io a questo punto non sto prefigurando che il partito decida per il sì, anche se devo dire che nell'averlo girato in parte non ho sentito un ostracismo a priori nei confronti del tema. Che non sia un no diretto a, un po' come lei leggeva in maniera strumentalmente politica, l'indizione del referendum, allora chi magari opta per un no potrebbe essere una preclusione totale alle politiche di governo regionale. Facciamo una discussione interna, bella, ampia, franca, però prendiamo una posizione poi. È appena stato eletto, quali sono i punti appunto lei da sviluppare nella gestione del PD del Veneto, anche in rapporto al PD nazionale? Renzi si riconferma, segretario si è ripreso il PD, a questo punto Gentiloni arriverà a fine legislatura o secondo lei ci sarà un'anticipazione delle elezioni, perché adesso in qualche modo dopo la batosta del 4 dicembre Renzi è di nuovo insomma all'autorevolezza per poter procedere. Non sono in grado di dirlo in questo momento, non ho riferimenti tali da poter giudicare quali saranno i passi dei prossimi giorni. È chiaro che le primarie hanno dato nuovamente una fortissima legittimità, autorevolezza, a questo punto però una scansione nuova anche della politica interna del PD, perché Matteo Renzi si era proposto in ticket con Maurizio Martina e da questo punto di vista anche con una simbologia nuova, con quell'avanti insieme che presuppone che le decisioni, la gestione del partito la prendiamo attraverso un noi, non attraverso un io. È un taglio nuovo che a me piace, a me non dispiace per nulla. Riconosco a priori che Matteo Renzi sia la leadership più forte che ha il centrosinistra in Italia, che sia la persona più indicata ad essere il candidato premier di un governo di centrosinistra, che abbia una visione del mondo attuale che è in linea non solo con i miei pensieri ma anche con quello che pensano gli elettori del centrosinistra e l'affermazione di vicinanza anche che c'è stata con circa 90 mila votanti in Veneto e circa 2 milioni in Italia, si potrà dire che è leggermente al di sotto del dato del 2013, ma è assolutamente superiore a tutte le previsioni di qualsiasi commentatore si approcciasse al tema. Quindi ripartiamo da lì. Dicono che appunto in questo momento si batte il ferro finché caldo, no? E quindi questo potrebbe essere il momento più indicato perché Renzi andando alle elezioni possa confermarsi, possa essere, insomma, possa il PD vincere anche se effettivamente ha perso un pezzo per strada e quindi non ha più i numeri fatti per un 40%. Però manca una legge elettorale. Manca una legge elettorale e va detto comunque che solo nello schema italiano serve questa liturgia di costruzione del voto per cui un tot di mesi, altrimenti la democrazia viene meno. in Inghilterra, in Gran Bretagna, il primo ministro May non se n'era mai parlato e poi in due settimane decide che di lì a un mese e mezzo si va il voto. E nessuno grida mamma mia, mancanza di democrazia, non avremo il tempo di dirlo alla nostra gente. Però abbiamo una legge elettorale che è incostituzionale. Abbiamo una legge elettorale che è incostituzionale. Taglio che lascia anche un vuoto non solo sul lavoro svolto dai parlamentari, ma anche sul ruolo che ha la magistratura in Italia, cioè sul ruolo del controllore di chi fa le leggi. Perché obiettivamente a questo punto che la faccia la Corte Costituzionale è altrimenti una legge elettorale, cioè non se ne viene fuori. Una era di un tipo, l'altra è totalmente di un altro tipo, entrambe hanno dei pezzi che sono considerati costruzionali. O i parlamentari non sono capaci di fare le leggi. A me sembra un po' ardita come costruzione. Un po' ardita, nel senso che il nostro è un sistema parlamentare. Chi, se non i parlamentari, hanno non solo l'obbligo, ma anche il diritto di approcciare qualsiasi tema, chiaramente nel rispetto... Seguendo le regole. Seguendo le regole, seguendo le regole. Però prendere un pezzettino di una legge, renderla incostituzionale, rendendola a quel punto uno stravolgimento, perché diventa il contrario di quello che avevi cercato di mettere in essere... Non si può modificare quel pezzettino incostituzionale. Sì. E come si fa a trovare in questo momento, visto che, appunto, vista la fuoriuscita, anche su questo tema di una bella componente all'interno del Partito Democratico, con chi potrete trovare un accordo? Perché c'è anche chi non ha nessuna intenzione di andare a elezioni, chi scalpita per le elezioni, quanto prima il Movimento 5 Stelle. Quindi ci potrebbe essere una convergenza. Che cosa può succedere nelle prossime settimane in Parlamento? Mi par di capire, insomma, se ci fossero le condizioni per farlo, si potrebbe andare a voto quanto prima, anche per a questo punto dare un altro suggello, no? Ripartire con, finalmente, come dicono molti vostri avversari, un governo eletto che... Beh, sappiamo che sul governo eletto, anche qua, si è costruita tutta una, come dire, una costruzione mediatica che non corrisponde al dato del nostro sistema statuale. Il nostro è un sistema parlamentare. Le, come dire, le maggioranze si possono e si devono trovare in Parlamento, poi si va di fronte al Presidente della Repubblica che indica un candidato premier, un premier che possa ottenere la fiducia delle camere. Invece qui si crea una costruzione pubblica per cui solo con il consenso elettorale si può andare alla guida del Paese. Sì, ma non c'è mai stata nelle schede elettorali il nome e cognome del candidato premier. Sarebbe un altro sistema? Quello è un sistema non più parlamentare ma presidenziale. Che poi il più votato diventi automaticamente candidato premier. Lei sta spiegando il meccanismo, no? Sì, magari non benissimo, ma insomma... No, no, beh, cioè, in effetti noi eleggiamo i parlamentari che poi, ed è ovvio che il principale esponente del maggior partito va da sé che diventa, insomma, il premier incaricato, ma non ci deve essere per forza l'elezione diretta. O cambiamo la forma Stato, a me può anche star bene che diventi un sistema presidenziale. Se ne è discusso per tanto tempo anche sulla Repubblica è presidenziale. Comunque nulla vieta e tra l'altro sarebbe anche uno sconvolgimento di quella che è la proposta pubblica del Movimento 5 Stelle che si fa forza del fatto di dire che non tratterà mai con nessuno. Ma in politica la sintesi, se è alta e se non è compromesso e ribasso, ci sta? Altrimenti non si spiegherebbe come tantissime leggi ottengano maggioranze anche trasversali che devono fare il bene del Paese riassumendo istanze che provengono anche da nuclei di riferimento diversi. Altrimenti c'è, come dire, la dittatura di una maggioranza, invece deve essere la sintesi di una proliferazione anche di portati diversi nella società. Qualora fosse la possibilità di trovare una sintesi a breve? Perché no? Che non presupporrebbe avere invece una linea di indirizzo comune su politiche sulle quali ci sentiamo profondamente da un'altra parte. Secondo lei sarebbe auspicabile che ci fosse una nuova leadership, visto appunto i risultati delle primarie prima della manovra di fine anno? In che senso? Supponiamo che non fosse Gentiloni, che Renzi voglia in qualche modo essere lui, qualora appunto con le elezioni vinte, a stabilire la manovra, insomma il decreto che stabilisce la finanziaria. Io parto da un presupposto, Gentiloni sta lavorando e sta lavorando bene. Qui si cercava una leadership forte del Partito Democratico, che è il partito guida dell'attuale governo, i passi dei prossimi giorni tra persone responsabili, ecco qua è possibile fare una sintesi e anche un po' la proposta che ho lanciato io per il Veneto e che rilancio ai simpatizzanti, agli iscritti, a tutte le persone che ritengono che l'argine fondamentale in questo momento sia tra la responsabilità e la rabbia. Il momento storico che viviamo è pervaso da una paura, paura del diverso, paura del domani, paura di non trovare lavoro. Se la paura trova una proposta di risposta, rimaniamo nel campo della responsabilità. Se invece bastano quattro slogan che ti arrivano in dieci secondi e che dicono no profughi, che dicono fuori dall'euro, quello è il campo della rabbia. Io a tutte le persone responsabili che votano PD o che travedono anche la possibilità che... Tanti PD sono stati mossi dalla rabbia. Non ultimo, Emiliano mi pare che abbia dichiarato rimarrò all'interno del Partito Democratico per fare la guerra, una cosa simile probabilmente, era una dichiarazione di un momento appunto della sconfitta. Lei parlava di comunità inclusiva e anche appunto scontando i vari commenti subito dopo dei vari rappresentanti del Partito Democratico, da Franceschini piuttosto che Cuperlo, quindi anime diverse del partito parlavano di inclusività e anche perché credo che sia una condizione sine qua non se si vuole presentarsi ad una consultazione elettorale e sperare di ottenere risultati soddisfacenti. Assolutamente, non è solo strategico e tattico da un punto di vista elettorale ma è fondamentale da un punto di vista anche di proposta politica. La nostra gente non ne può più prima di tutto delle nostre divisioni interne. Non ne può più di sentire la sera una linea di indirizzo di un esponente di un certo tipo e la mattina dopo il contrario. Il partito è il luogo della sintesi ma è il luogo anche delle decisioni. Quindi dialettica forte, costruttiva, anche aspra, poi però si esce con una posizione che è la posizione del partito. A quel punto chi non si ritrova più in quelle posizioni può ritenersi nel breve minoranza, anche dialettica interna o pensa che deve trovare casa da un'altra parte. Ma non può valere qua. Qua sì mi ritrovo profondamente con linee di indirizzo anche generali e nazionali, la minoranza non può guidare attraverso strumenti, ricatto in termini proprio, ma insomma di rivendicazione progressiva sempre e comunque sulla maggioranza. Questa minoranza che è successo è fuoriuscita e si è creata un'altra identità politica, però può essere un alleato? Deve essere un alleato? Stando a quel ragionamento che facevo prima, se tu ti senti dalla parte dei responsabili, quel campo deve essere il più aperto e largo possibile. Il più aperto e largo possibile. È lo scenario che intravediamo in questo momento in Francia. I nostri antagonisti veri sono i lepenisti, i trampisti, i sovranisti, chi vuole ricamare solo sulla rabbia della gente, non dando risposte di prospettiva. Io voglio stare invece su argomenti che sono più difficili, che ci impegnano anche nel quotidiano, nelle questioni amministrative, che richiedono tanta fatica, tanto impegno, tanta autorevolezza, perché può essere persa in un attimo, quindi noi abbiamo questo compito che ci richiede un impegno gravosissimo, ma solo in questa maniera noi possiamo dare prospettiva a un mondo che in questo momento ci dà per sintesi una scansione che fino a un anno e mezzo fa due non c'era. Tutti dicevano sono tutti uguali, eh no, non siamo tutti uguali. In America ha vinto Trump, lo davano per moderato di lì a 15 minuti dalle elezioni, invece tutto quanto diceva sta facendo. Io non mi ritrovo su quella prospettiva politica, io sono dall'altra parte della responsabilità, però col pragmatismo che si occupa dei temi. Il ticket Martina, Maurizio Martina, è l'elemento fondamentale di questo nuovo corso in cui non ci deve essere più l'Iorenzi ma il noi PD? È stata una proposta intelligente perché ha messo insieme anche due caratterialità diverse, uno più impietuoso, l'altro più riflessivo. Entrambi incarnano un vissuto che guarda il futuro e che non ha lo sguardo solo rivolto al passato, ma la forza di Maurizio Martina può essere anche quella di trarre l'infa dalle origini, dalle radici che abbiamo e che tra l'altro anche nella scansione Veneta io vorrei fossero costruite in un approccio nuovo con i nuovi tematismi e i nuovi Facebook, gli strumenti che l'informatica ci dà per stare in collegamento, ma non prescindere anche dal rapporto interpersonale, altrimenti non si spiegherebbero, ma tanto anche il contatto umano. Anche perché spesso magari nei social si fanno degli scivoloni pazzeschi e magari se ci fossero più incontri pubblici uno guarda meno i social e passano in secondo piano certe espressioni estemporanee che uno non si rende conto che mentre le fa sono già pubbliche. E comunque con un'attenzione che ci deve guidare, che è quella di interpretare tutta una generazione con la quale noi non riusciamo a dialogare, a parlare, non riusciamo nemmeno ad avere un rapporto, che sono i giovani. E a cui dovete dare risposte? Dobbiamo dare risposte, altrimenti non si spiegherebbe come mai tantissimi giovani dal Veneto decidono di andare via, magari per andare a fare a Londra, in Australia, un lavoro meno qualificante di quello che con difficoltà avrebbero trovato qui. Ma lì gli viene evocato futuro. Qui si sentono una capa oppressiva sopra la testa. Io ringrazio Alessandro Bisatto, non abbiamo più tempo, neosegretario del Partito Democratico del Veneto. Termina qui questa puntata di Stati in Punto, torniamo domani mattina. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie.